Il meteo di domani, martedì 23 agosto 2016. Cielo sereno, poco nuvoloso, con maggiori addensamenti nelle zone interne della regione. Possibilità di qualche isolato piovasco nelle zone interne meridionali. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti moderati nord-orientali con raffiche fino a vento forte lungo la costa e il crinale appenninico. Mare molto mosso. Grazie.